Marco Visentini, palleggiatore della Gerardi Svicita di Castello, per parlare un po' di questa vittoria importante e anche difficile contro Verovolle in Monza. Sì, è stata sicuramente finora la partita più impegnativa che abbiamo affrontato, come dice anche il risultato. Loro sono una squadra molto ben attrezzata che a tratti ci ha messo molto in difficoltà e siamo stati bravi a mantenere la lucidità e la calma per portare a casa la vittoria. Qual è stata la molla che vi è scattata nel terzo set? Perché lì sembrava la situazione molto difficile anche mentalmente. Sì, loro nel secondo set hanno sicuramente incrementato il loro gioco e appunto mettendoci in difficoltà. Lì siamo stati bravi a rimanere uniti, che diciamo è un po' il segreto per tutte le vittorie che abbiamo conseguito. Siamo rimasti uniti perché crediamo molto nel gruppo e quindi questo ci ha dato la spinta per fare sempre meglio e per poi vincere. Meno scoppiantante forse Van Valle ma un from superlativo? Sì, sicuramente anche questo è un segno positivo quando magari qualche giocatore va leggermente in difficoltà, c'è subito un altro che gli dà una mano e la squadra si deve basare proprio su questo, su aiutarsi vicendevolmente e andare avanti. 15 punti in classifica, primato dopo 5 giornate disputate sulle 6 complessive, si può davvero sognare? Diciamo che l'inizio è buono, sicuramente quasi nessuno si aspettava un inizio del genere, sì, è buono e chi ben comincia come sappiamo è a metà dell'opera quindi si può sperare, sì. Ora massima concentrazione perché contro Brollo sarà una cara sicuramente difficile, più di quello che forse dice la classifica? Sì, è una trasferta complicata, molto lontana quindi magari potrà incidere anche un po' la stanchezza quindi dobbiamo stare ancora più concentrati, ancora più attenti perché sì, non sarà per nulla facile. Alcune delle big sembrano un pochino a rallenti in questo inizio di campionato, strada spianata oppure c'è da fare attenzione anche a qualche sorpresa? No, questo come quasi ogni anno è un campionato molto equilibrato quindi i passi falsi sono dietro l'angolo quindi sarà molto dura affrontare tutte le squadre perché anche magari le piccole possono comunque essere molto insidiose, molto ostiche quindi c'è da essere sempre allerta. Per te un ottimo inizio? Sì, sono soddisfatto ma di tutta la squadra in generale.